Sono passati ben 50 anni da quando la Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue diede il via al suo progetto e cioè quello di raccogliere dai donatori sangue per poi poterlo donare a chi ne avesse bisogno. E per ricordare questo avvenimento Teramo si prepara ad accogliere numerose iniziative per festeggiare questo anniversario. Sabato abbiamo l'assemblea e la giornata del donatore al di Poppa, verranno premiati i donatori più meritevoli, domenica invece a mezzogiorno ci sarà una messa dedicata ai donatori, poi ci sarà un aperitivo offerto dall'Associazione in Piazza Martiri. Quindi alle 4 verrà presentato un libro che abbiamo fatto, che abbiamo realizzato, 50 anni di solidarietà è il titolo e alle 9 di sera al Parco della Scienza ci sarà un varietà in cui si esibiranno giovani talenti teramani. Spargi amore, donna sangue, questo sarà lo spettacolo di domenica sera. Esatto, spargi amore, donna sangue perché abbiamo pensato noi di Nuove Armonie, che siamo stati chiamati dalla FIDAS, siamo onoratissimi di questa collaborazione che è nata così proprio per la solidarietà. C'è un punto venuto in mente questo slogan, invece di spargere il sangue con le guerre, con altri tipi di violenze, forse è il caso di spargere amore e donarlo il sangue, crediamo che sia la cosa più importante. A tutti i diciottenni e in su, giovani, che stanno in ottima salute e che hanno intenzione di fare del bene a qualcuno con un sacrificio ridicolo, un sacrificio forse anche un piacere, di recarsi al centro trasfusionale di Teramo, avranno la possibilità di sottoporsi a un check up ma soprattutto di fare anche del bene agli altri. Grazie.